Musica Controlli sulle attività edilizie in area protetta a Pantelleria, scattano denunce e sanzioni. Si è insediata a Mazzara il nuovo segretario generale, si tratta di Salvatore Pignatello. Bellezza e bene comune, il titolo della rubrica, secondo me, a cura del dottor Riccardo Larosa. Si è concluso il campionato Zip 25 a Mazzara di Vela, il trofeo Memorial Giovanni Tumbiolo. Ben ritrovati con l'informazione di Teleotto sul canale 117 del Digitale Terrestre. Abbiamo il nostro TG con la cronaca, controlli serrati sulle attività edilizie in area protetta a Pantelleria, ha portato a delle denunce e delle sanzioni. Nelle ultime settimane i carabinieri forestali, coordinati dal reparto PN Aspromonte di Reggio Calabria, diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, si sono resi protagonisti di numerosi servizi a contrasto della cementificazione selvaggia nell'area Parco Nazionale, dove delicati equilibri ecosistemici rischiano di essere compromessi da indiscriminate attività antropiche. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che erano state realizzate attività edilizie in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti, determinando così un carico urbanistico ingiustificato in zone vulnerabili. Nel dettaglio i militari hanno accertato il deturpamento di un habitat naturale tipico dell'areale mediterraneo, provocato dalla costruzione di un'unità abitativa priva di autorizzazioni, la realizzazione di opere di ampliamento di un fabbricato con modalità di formi da quanto previsto in progetto e in altro caso la creazione di un'opera idraulica in zona vincolata mancante di autorizzazioni e dell'espressione del genio civile competente. Gli accertamenti hanno portato al deferimento di tre soggetti presunti responsabili dei lavori, destinatari anche dei provvedimenti dell'autorità relativi alla rimessa in pristino dei luoghi. Altri due soggetti sono stati infine sanzionati in via amministrativa per l'abbandono di rifiuti urbani su terreno prospicente un'area di cantiere e per la movimentazione di terreno saldo in area sottoposta a vincolo idrogeologico. I controlli proseguiranno nell'ambito della stessa campagna anche con le verifiche sul rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio delle varie autorizzazioni. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con l'ausilio delle cane finanziere JAZ hanno arrestato un uomo in flagranza di reato e sequestrato circa 3,2 kg di hashish suddivise in 6 panetti per un valore al dettaglio di oltre 25 mila euro nonché del denaro per un importo complessivo di 4.500 euro. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto la misura precautelare degli arresti domiciliari. E torniamo a parlare della tragica morte dello scorso 11 febbraio del militare marsalese Danilo Salvatore Lucente Pipitone. C'è una super testimone che dichiara che il tutto è nato per una lite, per un parcheggio. La tragica morte di Danilo Salvatore Lucente Pipitone il militare originario di Marsala ha ucciso brutalmente a Roma ancora senza un colpevole. Ci sarebbe una super testimone che ha assistito al pestaggio del caporal maggiore deceduto al policlinico Umberto I e una prostituta romena. La donna, sentita dagli investigatori della squadra mobile ha riferito che il pestaggio sarebbe arrivato dopo una lite per un parcheggio. La ragazza, la notte di venerdì 11 febbraio, intorno alle 2 ha visto due uomini litigare furiosamente. Danilo sarebbe stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente per avere parcheggiato la sua panda in un posto che doveva rimanere libero. La mobile è alla ricerca di un trentenne tunisino, Abidi Mohamed, sospettato di avere colpito Pipitone al volto facendolo cadere a terra. Il tunisino ha fatto perdere le sue tracce. Alcune pagine social di tunisini in Italia stanno facendo girare la foto segnaletica del loro connazionale nel tentativo di aiutare le forze dell'ordine a trovarlo. Abidi era venuto in Italia dieci anni fa inseguendo il sogno di diventare un calciatore professionista. Gli investigatori sono sulle sue tracce e quelle di un probabile complice dal momento che dal luogo del delitto è stata vista fuggire via una Fiat 500 Abarth la cui targa è in possesso delle forze dell'ordine. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito una ventina di misure cautelari sulle 25 firmate dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA fra Licata, Gela, Campobello di Licata e Canicattì. L'inchiesta, che si stende anche a Catania, ha permesso di portare alla luce un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Sono spariti i messaggi whatsapp della vittima Maria Amatuzzo quindi torniamo a parlare dell'omicidio avvenuto a Selinunte. Alcuni messaggi whatsapp tra Maria Amatuzzo, la 29enne uccisa con 12 coltellate all'addome a Marinella di Selinunte la vigilia dello scorso Natale e il marito Ernesto Favara di 63 anni in carcere perché accusato dell'omicidio sarebbero stati cancellati dalla memoria del telefono cellulare della donna. La circostanza sarebbe emersa nel corso degli accertamenti tecnici che la procura di Marsala ha affidato a un consulente perito elettronico incaricato di verificare il contenuto dei due telefonini tablet e pc sia della vittima che dell'uomo sequestrati dopo il delitto. I messaggi sono spariti dal telefono della donna e soprattutto quelli dell'ultimo periodo che avrebbero potuto contribuire a delineare il quadro in cui è maturato il tragico epilogo. Secondo l'avvocato di parte civile, l'avvocato Daniele Cimiotta del foro di Marsala i messaggi cancellati potevano essere interessanti al fine di verificare quelli che erano i rapporti negli ultimi tempi. L'elemento sarebbe stato importante anche per capire se vi fosse già l'intenzione del marito di compiere il gesto e se i due avevano messaggiato poco prima che la donna venisse massacrata dal marito. Non si sa al momento chi li ha cancellati e per quale motivo. Anche il legale dell'omicida, oltre che quello di parte civile, hanno nominato un loro consulente tecnico per le stesse verifiche sui dispositivi elettronici. L'avvocato Cimiotta inoltre ha deciso di farsi affiancare da Roberta Bruzzone per le questioni che riguardano gli aspetti psichiali. Ancora giudiziari è stato assolto anche in appello il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo. Lo ha stabilito oggi la Corte d'Appello di Palermo confermando la sentenza di primo grado dello scorso settembre con la quale il sindaco Nicolò Rizzo era stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste nell'ambito del processo riguardante l'operazione Cutrara condotta dalla Procura Antimafia di Palermo e dai Carabinieri a giugno del 2020. La DDA di Palermo aveva presentato ricorso in appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari di Palermo che aveva assolto con rite abbreviato il sindaco Rizzo. La sentenza è stata adesso confermata anche dalla Corte d'Appello. E ieri 500 scout a Campobello per la giornata Pensiero 2023. L'impegno della Gesci nell'educare la legalità e la giustizia contro ogni mafia. Il nostro mondo, il nostro futuro di pace è stato il tema della giornata del Pensiero 2023 che ha visto coinvolti 500 scout a Gesci della zona dei Fenici a Campobello di Mazzara. Ritrovarsi a Campobello di Mazzara è stato significativo per ribadire l'impegno della Gesci nell'educare alla legalità e alla giustizia contro ogni mafia ed è stato fortemente voluto all'indomani dell'arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro per fare sentire la presenza nel territorio e risvegliare l'impegno civile di piccoli e grandi ha detto Manuela Tedesco. A Campobello è stato scoperto il covo dove viveva il superlatitante. La giornata è iniziata con una marcia lungo le strade della città e il benvenuto da parte del sindaco di Campobello di Mazzara Giuseppe Castiglione. Importanti spunti di riflessione sono stati donati dal referente provinciale di Libera Salvatore Inguì e dal sindaco di Mazzara del Vallo Salvatore Quinci. Hanno raccontato le loro testimonianze Nicola Clemenza e Salvatore Catalano fratello dell'agente di scorta Agostino morto nella strage di Via D'Amelio. A ricordo di questa giornata sono stati messi a dimora tre alberi d'ulivo in tre punti della città come simbolo di speranza nelle nuove generazioni. La giornata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa. All'iniziativa hanno partecipato Daniela Ferrara, capo guida d'Italia, Andrea Mazzu, responsabile regionale e Nicola Citarda, incaricato regionale all'organizzazione. E torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Mazzara del Valle. Lo farà alle ore 16 di giovedì 23 febbraio. All'ordine del giorno il riconoscimento della legittimità di sei debiti fuori bilancio. La costituzione della centrale unica di committenza tra il Comune di Mazzara del Valle e quello di Campobello di Mazzara. E la revisione della pianta organica del piano delle farmacie con la modifica del numero delle sedi farmaceutiche che da 16 scende a 15. E' passato un anno e nessuna bella notizia per i produttori agricoli che dovrebbero essere approvvigionati dalla diga Trinità di Castelvetrano. L'anno scorso l'avvio della campagna enrigo estiva ci eravamo battuti, hanno dichiarato in una nota Camillo Pugliesi, presidente CIA Sicilio Occidentale, affinché non venissero buttati a mare milioni di metri cubi di acqua per i noti problemi strutturali del bacino lasciando a secco centinaia di etni di cultura che vanno da Campobello di Mazzara fino a Marsale e Salemi. Ebbene è passato quasi un anno e si continua a buttare acqua. Per soddisfare il fabbisogno dei produttori agricoli della zona servirebbero 6 milioni di metri cubi di acqua. La diga Trinità è autorizzata fino a un massimo di quasi 2 milioni. E a proposito della diga Trinità, non essendoci proprio l'acqua per soddisfare l'irrigazione di tutti i campi, è intervenuta l'onorevole Ciminisi del Movimento 5 Stelle che raccogliendo l'allarme della CIA si è rivolta al prefetto. Aziende cooperative e imprenditori agricoli che operano nelle aree servite dalle acque della diga Trinità sono fortemente preoccupati per la prossima campagna irrigua. Lo ha affermato l'onorevole Cristina Ciminisi dopo aver inviato al prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, una nota con la quale ne chiede l'intervento rilanciando l'allarme della CIA e di altre organizzazioni di categoria. Una intera campagna agricola, milioni di euro di reddito, una parte importante del PIL dell'intera provincia di Trapani sono a rischio. L'invaso della diga Trinità è ridotto a un bacino di acqua limacciosa, sottolinea Ciminisi. Già l'areale produttivo compreso tra i comuni di Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo e Castelvetrano e in parte dei territori di Marsale e Salemi è stato messo a dura prova dalla siccità prima e dalle precipitazioni straordinarie dopo. Secondo la CIA, che per prima ha lanciato l'allarme sulla scorta delle difficoltà già vissute lo scorso anno, il fabbisogno idrico per una regolare campagna di irrigazione richiederebbe non meno di 6 milioni di metri cubi di acqua, mentre la diga Trinità è a tutt'oggi autorizzata ad invasarne meno di 2 milioni di metri utili. Per ragioni di sicurezza, gli scarichi di superficie sono tenuti costantemente aperti e nonostante le piogge il livello delle acque non è mai cresciuto. Un intreccio di competenze tra Dipartimento regionale delle acque, Assessorato dell'Agricoltura, Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Autorità di Bacino, Protezione Civile, ha ostacolato fino ad oggi la piena operatività della diga. Mi rivolgo al Prefetto perché al tavolo tecnico è urgente individuare il percorso amministrativo tra tutti gli attori per contemperare esigenze di sicurezza di produzione agricola e valutare quindi se sia possibile chiudere le paratie degli scarichi di superficie affinché cresca il livello delle acque per uso irriguo. Almeno la quantità da rilasciare nei prossimi mesi e assicurare la sopravvivenza delle colture. Ed ancora un servizio. Dopo le polemiche sull'aumento degli stipendi dei parlamentari dell'Ars in seguito all'adeguamento Istat, ascoltiamo quelle che sono le dichiarazioni del Presidente Schifani che ha rilasciato a Ditalpress. I siciliani sono indignati per l'aumento dei stipendi dei deputati, è un adeguamento Istat che ci mancherebbe, però il loro aumento corrisponde a uno stipendio medio di un siciliano. Su questo già mi sono pronunziato in un'intervista che ho rilasciato a un quotidiano regionale. Io sono un parlamentarista convinto e rispetto il voto del Parlamento. Il Parlamento si è espresso, poi giudizi di opportunità politica o meno, quando lasciati alle coscienze dei singoli, si trattava di un adeguamento previsto dalla norma, e quindi automatico. In questo caso l'inflazione è stata maggiore rispetto al passato e quindi è dato nell'occhio. Però, ripeto, il Parlamento per me rimane sovrano e le polemiche lasciamole agli opinionisti. Naturalmente ognuno è il padrone del secondo coscienza, è stato votato, c'era un voto segreto, è stato chiesto da qualcuno. Io avevo già lasciato l'aula da mezzoletta perché ormai la manovra era stata votata. Con ciò non intendo sottrarmi a responsabilità. Dico soltanto che il Parlamento è sovrano e credo che ormai ci si deve occupare di più, di problemi più stringenti della nostra terra e mi auguro che anche queste polemiche alla fine si concludano per concentrare anche la critica su quelle che sono le tematiche occupazionali, emergenziali della nostra terra. L'amministrazione comunale di Casselvetrano ha reso noto che sono stati affidati lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione delle gravi criticità della rete fognaria e stradale delle comune. La ditta incaricata che ha presentato l'offerta più vantaggiosa sul MEPA è la Pappalardo Francesco di Santa Flavia. E si è insediato ieri a Mazzara del Vallo il nuovo segretario generale. Si tratta di Salvatore Pignatello. Ascoltiamo il servizio. Si è insediato al palazzo di città il dottore Salvatore Pignatello, nuovo segretario generale del comune di Mazzara del Vallo. Nato a Milazzo, 50 anni, laureato in giurisprudenza, il neosegretario titolare del comune di Mazzara del Vallo prende il posto del dottore Calogero Calamia, che a fine gennaio ha lasciato la titolarità della segreteria generale del comune di Mazzara del Vallo per assumere con decorrenza 1 febbraio l'incarico di dirigente dell'ufficio provinciale di ragioneria generale dello Stato. Tra le esperienze maturate e invarienti dal neosegretario generale Pignatello si segnalano la titolarità, fino al febbraio del 2022, della segreteria generale della città metropolitana di Roma Capitale e quelle precedenti del libero consorzio comunale di Enna delle città di Gela e Termini Merese. Il dottore Salvatore Pignatello è stato nominato segretario titolare della sede di segreteria del comune di Mazzara del Vallo con determinazione di ieri del sindaco Salvatore Quinci a seguito dell'attivazione della procedura e del provvedimento di assegnazione da parte dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il Ministero dell'Interno. Ad accogliere ieri mattina il neosegretario generale è stato il sindaco Salvatore Quinci che ha formulato al dottore Pignatello, a nome dell'amministrazione comunale, il saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro. E c'è giunto in redazione una dichiarazione stampa da parte di Gioventù Nazionale Mazzara che abbiamo deciso di leggere integralmente. Sembra che adesso si faccia sul serio, il porto canale di Mazzara del Vallo verrà dragato o almeno così viene dichiarato nelle varie interviste. Questa volta ad esprimersi è Maurizio Croce, nonché il commissario del dissesto idrogeologico della regione siciliana. Dopo 30 anni finalmente il porto della nostra città verrà dragato. Ci rammarica che il dragaggio sia relativo solo alla foce e non all'intero percorso che non si presenta in condizioni ottimali. La nostra Mazzara è conosciuta nel mondo oltre che per la sua immensa bellezza e per la sua storia soprattutto per la pesca. Quest'ultimo settore ha fortemente risentito delle condizioni del porto spopolando il settore facendo migrare gli imprenditori in altre città siciliane se non addirittura in altri stati come la Tunisia. L'economia della nostra città deve ripartire sicuramente. Questa bella notizia in merito all'escavazione del porto canale fa ben sperare i giovani di Mazzara del Vallo hanno sempre sostenuto il settore e ci auguriamo che non rimanga solo una promessa e che i lavori iniziano e si concludano come da programma e anche noi ovviamente ci auguriamo che non si tratti dell'ennesima promessa ma si possa davvero iniziare i lavori. E ancora a Mazzara del Vallo è stata aggiudicata dal Comune la gara per il restauro della vegetazione Sisyphus nel sito di interesse comunitario di Contrada Affacciata. Verrà ripristinata con circa 82.000 piante autoctone la vegetazione dell'area di proprietà comunale di Contrada Affacciata che si trova alle spalle della chiesa di Sant'Antonio da Padova e si estende per circa 21 ettari. Si tratta del progetto Restauro della vegetazione a Sisyphus Lotus che verrà attuato nei prossimi mesi grazie al finanziamento di circa 2.900.000 euro che l'assessorato regionale all'ambiente ha concesso al Comune di Mazzara del Vallo. L'area in questione è caratterizzata dalle cosiddette sciare ed è un sito di importanza comunitaria. Con determinazione dirigenziale numero 278 del 10 febbraio scorso è stata dichiarata l'efficacia di aggiudicazione della gara d'appalto che è stata affidata al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori di Maletto in provincia di Catania. Il Consorzio dovrà realizzare gli interventi in un tempo massimo di sei mesi decorrenti dalla consegna formale dei lavori. In particolare verranno realizzati messa a dimora di piante autoctone attraverso semina ed impianto a mano che permettano la rigenerazione del sito e dell'habitat ancora presente mediante il recupero dell'ambiente naturalistico vegetale. Opere finalizzate alla gestione, alla manutenzione e alla salvaguardia del sito quali la realizzazione dell'impianto di rilevamento antincendio, la realizzazione di viali parafuoco interrabattuta, la realizzazione della recinzione con muri a secco dell'intera area, la collocazione di pergolati in legno con cartellonistica esplicativa. Nel corso degli interventi di ricostruzione naturalistica si procederà alla demolizione di alcuni piccoli manufatti, tralicci e recinzioni presenti nell'area. E torna la rubrica secondo me a cura del dottor Riccardo Larosa. Il titolo di oggi è bellezza e bene comune. Quando si parla di bellezza, secondo il giudizio estetico, mi piace rifarmi a Kant, secondo cui la bellezza non è tanto nell'oggetto quanto nel soggetto e per questo motivo non può esistere una regola universale o un canone di bellezza universale. Però Kant ci offre quattro definizioni di bello. Bello è ciò che piace senza interesse. Il famoso non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, l'avete detto tutti. Poi il bello è ciò che piace senza concetto, cioè l'emozione che non si può spiegare come un quadro o una canzone. Bello è ciò che piace perché appare conforme agli scopi, per esempio la bellezza dell'armonia di una poesia. Poi bello è ciò che viene riconosciuto come l'oggetto di un piacere necessario e qui inseriamo il concetto della bellezza del bene comune. A tutti noi piace ammirare la bellezza di un monumento, di un parco, di una costruzione, la pulizia delle strade, delle strade della città. Ma se questa pulizia non viene curata, allora il degrado si impadronirà di quel posto e in maniera pur assai repentina. Nel 1969 il professor Zimbardo dell'Università di Stanford condusse un esperimento di psicologia sociale. Lasciò due automobili identiche, stessa marca, modello, colore, eccetera, abbandonate, una in una strada del Bronx, di New York, e un'altra a Palo Alto, una cittadina tranquilla, ricca, della California, in un quartiere residenziale. Quindi lo scenario qual era? Era quello di due auto identiche, abbandonate in due quartieri con tipologie molto diverse di abitanti, e con una squadra di specialisti in psicologia sociale a studiare il comportamento delle persone in ciascun sito. Ciò che accadde fu che l'automobile abbandonata nel Bronx cominciò ad essere smantellata in poche ore, perdendo ruote, motori, insomma tutto. Tutti i materiali che potevano essere utilizzati vennero rubati e quelli non utilizzabili vennero distrutti. Al contrario, l'automobile abbandonata invece a Palo Alto rimase intatta. In tali casi è comune attribuire le cause del crimine alla povertà. Tuttavia l'esperimento in questione fu proseguito. Dopo una settimana, durante la quale la vettura abbandonata al Bronx era stata demolita, il ricercatore ha deciso di rompere un vetro della vettura a Palo Alto. In breve tempo, il ricercatore assistettero alla stessa dinamica di vandalismo che avevano registrato nel Bronx. Furto, violenza, vandalismo ridussero il veicolo lasciato a Palo Alto nello stesso stato di quello abbandonato nel Bronx. Immaginate. Questa qui divenne famosa come la teoria delle finestre rotte e divenne una teoria criminologica sulla capacità del disordine urbano, del degrado e del vandalismo di generare criminalità aggiuntiva e comportamenti antisociali. Se vediamo un edificio con una finestra rotta, dopo un po' saranno rotte anche le altre. Il degrado porta degrado. Ecco perché le periferie non vanno abbandonate a se stesse. Bisogna renderle parte integrante del contesto cittadino trasferendo più uffici comunali e servizi. Una zona vissuta non si presta al degrado, soprattutto se si interviene nella cura e manutenzione del bene pubblico. Quindi, non rompete le finestre. Anzi, se ne vedete una rotta, sbrigatevi a ripararla. Adesso una sintesi di quelle che sono le richieste del documento finale approvato ieri mattina dai dirigenti di CGL, CISL e UIL Trapani in occasione dell'attivo unitario per costruire insieme una prospettiva di rilancio della provincia di Trapani. In sintesi, le tre sigle sindacali chiedono di attivare i tavoli comunali di confronto sul PNRR e dove già esistenti renderli strumenti di lavoro e di confronto costante. Conoscere l'elenco dei progetti in corso e in quale fase si trovano al fine di verificare lo stato dell'arte di ciascuno, le risorse impegnate, i tempi e i modi di realizzazione. La convocazione urgente da parte dell'ASP del Tavolo sulla Salute e congiuntamente di un tavolo sulle condizioni della sanità nel Trapanese. Creare con le altre parti sociali un tavolo congiunto sullo sviluppo della provincia di Trapani al fine di definire priorità di azione che possa costituire un elemento comune da porre all'attenzione della politica e delle istituzioni ai vari livelli. Un momento di confronto con i parlamentari nazionali e regionali eletti nella provincia per delineare inoltre strategie condivise di azioni che a prescindere dall'appartenenza politica possano diventare momenti di azione comune verso obiettivi specifici ed irrinunciabili per l'intera provincia. I lavori dell'attivo unitario sono stati preseduti dal segretario provinciale della UIL Tommaso Magaddino. E ancora un servizio, torniamo a Mazzara, la scuola Boscarino Castiglione, tutti matti per gli scacchi. Sono stati avviati due corsi di base completamente gratuiti in collaborazione con la Scuola Federale dello Scacco Club Mazzara. Grazie al protocollo fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Scacchistica Italiana nell'ambito del progetto finanziato da Sport e Salute a Scuola dagli Sport della Mente, l'Istituto Comprensivo Boscarino Castiglione ha avviato due corsi di base di scacchi completamente gratuiti. L'iniziativa, accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico, la professoressa Giovanna Ditta, si svolge in collaborazione con la Scuola Federale dello Scacco Club Mazzara del presidente Agata Di Stefano, per assicurare ai giovani partecipanti la conoscenza e i diversi aspetti del gioco che integra le capacità di sviluppare autonomia e socializzazione. Per gli studenti il corso è aperto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado. Le lezioni si svolgeranno presso l'Istituto a partire da giovedì 23 febbraio e saranno di due ore, dalle 15.30 alle 17.30. Responsabile del progetto è il tutor istruttore nazionale Antonino Profera, che sarà coadiuvato dagli istruttori FSI, dagli educatori CONI e dalle insegnanti Elvira Pomiglia, Maria Aurelia Piazza e Adriana Pizzo. Il secondo corso sarà dedicato ai familiari che volessero conoscere i primi rudimenti e interagire con i piccoli scacchisti che si ritroveranno per casa. Il corso per gli adulti, suddiviso in dieci incontri di un'ora, si svolgerà nelle giornate di sabato, dalle 17 alle 18, a partire dal 25 febbraio, presso la Scuola Federale dello Scacco Club Mazzara, che si trova nella Via Genova numero 23. Ulteriori dettagli, il calendario definitivo e gli orari per entrambi i corsi saranno comunicati nel primo incontro. Ulteriori informazioni possono essere richieste a scuola tpic83800q.it oppure allo Scacco Club Mazzara scrivi chiocciola scaccoclebmazzara.it Telefono 339 2026556 La notizia che ci giunge da Castelvetrano, dopo anni di lotte sindacali al fianco dei lavoratori precari del Comune, si può finalmente esprimere viva soddisfazione per lo storico obiettivo raggiunto, frutto di un lungo e tortuoso iter burocratico che attraverso il riequilibrio di bilancio del sesto finanziario dell'Ente porterà finalmente la firma dei contratti a tempo indeterminato per 223 lavoratori. Ad affermarlo sono Francesca Todore e Caterina Tusa della FP CGL Trapani Rosario Genco della CISL FP Palermo Trapani e Giorgio Magaddino della UIL FPL Trapani in seguito alla riunione che si è svolta stamani presso l'amministrazione castelvetranese proprio per la definizione degli atti per la stabilizzazione. E chiudiamo con lo sport, si è concluso a Mazzara il campionato ZIP 25 Trofeo Memorial Giovanni Tumbiolo. Il servizio. Si è concluso nella mattinata di domenica 19 febbraio il campionato ZIP 25 Trofeo Memorial Giovanni Tumbiolo organizzato dalla Lega Navale Italiana a sezione di Mazzara del Vallo. Le regate si sono svolte nella zona di mare antistante il lungomare San Vito di Mazzara e hanno visto la partecipazione al campionato di un equipaggio proveniente da Gela con lo ZIP Capitan Max che si è classificato al primo posto e uno da Scoglitti con lo ZIP Danolu classificato al secondo posto. Al terzo posto uno degli ZIP della Lega Navale di Mazzara Acqua Chiara con un equipaggio capitanato da Marco Tumbiolo figlio di Giovanni Tumbiolo. Particolarmente piacevole la premiazione ha affermato il presidente della sezione mazzarese della Lega Navale Giampiero Tilotta con la graditissima presenza dell'avvocato Daniela Grimaudo, moglie di Giovanni. Per noi chiamiamo Mazzara il suo mare per cui Giovanni si era tanto speso nella sua vita a prosegui Tilotta è un onore poter realizzare delle manifestazioni sportive a suo nome. Infine un applauso ai nostri soci impegnati nell'organizzazione e a tutti gli armatori con i loro equipaggi che si sono contesi il trofeo. E con la vela termina qui il nostro Tg io vi lascio alla programmazione di Telehot e vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.